e passa la macchina genio parli quando passa la macchina ragazzi andiamo in quel posto là, là dentro in quella boscaglia c'è una casa abbandonata andiamo a vedere di cosa si tratta, attenzione ragazzi si parla di spiriti, attenzione non si scherzi adesso, sono saravati la faccia, diverse mette puoi, ma commento un po' è piaciuto dovrebbe essere dei diritti bisogna essere di prima, un certo? hai vuelto in illustrated questo non mi viene mai seduto metti really・・ ti ho fatto tutte le mani e a domani e noi vediamo comeicias con la 돼요 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Mi ammazzo qui a camminare col telefono Il nostro corso gratuito è un corso gratuito 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 E infatti le spine Mi salverò Si ma se mi devi salvare salvami Grazie, vedo che mi hai salvato anche tu, scusa Qui c'è una forza strana che mi tiene Una forza strana che mi tiene Che cosa sarà? Aia, 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 mi ha appunto una spina Non è che ora è il sociale spina ad osso? Mi ha sempre fatto paura Sapete perché? Perché era una casa buttata nel bosco Ragazzi io ho intenzione anche di creare un film L'ho già detto a Lady Ora stiamo vedendo un po' come creare l'inizio Soprattutto mi serve Creeremo questo film Una specie di Faremo una cosa fatta bene Un bel film Saranno i registi Poi manamano che va avanti la serie Perché lo farà a puntata Vedremo anche questi posti E faremo delle riprese anche qua Film horror ovviamente